La partenza è positiva ma c'è ancora cautela per i saldi invernali iniziati lo scorso 5 gennaio. Ad Arezzo hanno coinciso anche con la prima edizione dell'anno della Fiera Antiquaria, sicuramente un bel aiuto dal punto di vista dell'afflusso di turisti e visitatori. I saldi sono sicuramente un momento importante per il fatturato delle aziende, e chiaramente c'è una bella aspettativa, c'è la speranza che possano essere anche migliori rispetto all'anno scorso. Vediamo che la fiducia dei consumatori sembra che stia un po' aumentando di nuovo, quindi speriamo anche che questo si riveda poi negli affari e nelle vendite a saldo. Come sta cambiando la pelle di questo settore con l'avvento dell'online, delle varie catene monomarca? È un settore che sta cambiando tantissimo, sia nella vendita normale durante tutto l'anno, perché chiaramente è un settore che vede sempre di più crescere anche la parte della vendita online. Questo lo vediamo poi anche sul discorso delle vendite a prezzi scontati, in cui chiaramente l'online gioca un ruolo un po' in negativo, nel senso che comunque non è chiaramente regolamentato come dovrebbe, non è controllabile come dovrebbe essere, come vorremmo, perché comunque lo sconto online si trova sempre, le stesse aziende produttrici vendono i prodotti che poi i nostri commercianti commercializzano a prezzi scontati anche prima di quello che possono fare poi i negozi. La caccia all'acquisto più conveniente si è concentrata su cappotti, giubbotti, piumini, maglieria da uomo e da donna e calzature. Sei abituata a comprare ai saldi? A volte sì, dipende. Se c'è qualcosa che mi serve, penso di poter risparmiare qualcosa, sì. Però non aspetti questo periodo o lo aspetti? No, no, solitamente no. Se è una cosa che mi piace, lo posso fare, ovviamente la compro anche nel periodo normale, non aspetto proprio il saldo, sì sì. Perché comprare ai saldi? Perché conviene? Aspettate questo periodo? Lo aspettiamo, anzi mettiamo i soldini da parte, facciamo le formichine per arrivare a questo momento qui. Quali sono gli oggetti che si prediligono di più? Oddio, diciamo un po' tutto, l'abbigliamento è sempre, soprattutto ora trovi quella lì, più invernale, il capotti, le giacche, sono quelli più preferiti così prossimo anno. Ci abbiamo già, però non è facile, magari ora anche gli ultimi giorni che sono i sconti, già le taglie, è difficile trovare le taglie. Che c'è convenienza. Cosa compra di solito ai saldi? Ma pantaloni, maglie, non è che... un secondo. Aspetta questo periodo, diciamo... No, 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 non mi importa.